Il sindaco Enrico Zin non è disposto a fare sconti ed è pronto se i fatti venissero confermati anche ad applicare il DASPO per bandire da Piazzola sul Brenta l'ambulante che al mercatino dell'antiquariato ha suddiviso i dischi in vendita non per generi ma per razza e con una definizione offensiva. Il fatto è stato reso pubblico da un musicista ferrarese creando subito diverse polemiche. Zin, che sta apurando i fatti, ipotizza la violazione del decreto mancino sulla discriminazione raziale.